C'è grande fermento anche in Abruzzo per le prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Nella nostra regione i comuni chiamati alle urne saranno 72 su 305, di cui 5 sopra i 15.000 abitanti. Vasto, Lanciano, Francavilla al Mare, Sulmona e Roseto degli Abruzzi. In questi centri, nel caso in cui nessuno dei candidati sindaci dovesse raggiungere il 50% più uno dei voti validi, la partita si chiuderebbe nel successivo turno di balottaggio fissato per il 17-18 ottobre. In provincia di L'Aquila, dove sono 29 comuni interessati, torna il voto Sulmona. Qui ha deciso di non ricandidarsi il sindaco uscente, Anna Maria Casini, che dopo il primo mandato ha deciso di non partecipare a questa tornata elettorale. L'ultimo candidato a scendere in campo è stato Vittorio Masci, aspirante primo cittadino del centrodestra, sostenuto da quattro liste, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, e quella del candidato sindaco. In corsa anche la consigliera di Fratelli d'Italia, Elisabetta Bianchi, con la lista direzione Sulmona. In campo anche l'ex assessore di centrosinistra della giunta di Luciano D'Alfonso, Andrea Geo Solimo, che sarà appoggiato da sette liste. Si gioca le sue carte anche l'avvocato Gianfranco Di Piero, per la coalizione liberamente Sulmona, e che può contare sull'appoggio del Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. In provincia di Chieti sono chiamate alle urne i cittadini di Vasto, comune più grande al voto, dove si ripresenta davanti al giudizio degli lettori il sindaco uscente e rappresentante del centrosinistra, Francesco Menna, che conta di essere confermato al secondo mandato, come accaduto con il suo predecessore, Luciano Lapenna. A contendere lo scranno più alto della sala Vennitti, sarà per il centrodestra l'avvocato Guido Gian Giacomo, fondatore di Forza Italia Cittadina e consigliere comunale uscente. Corre anche Alessandra Notaro, ex magistrato onorario, candidata per il gruppo La Buona Stagione. Ci prova anche il Movimento 5 Stelle, con Dina Carinci, a capo del progetto civico Chiama Vasto. In corsa poi l'avvocato Angela Pennetta, per la lista civica l'arcobaleno, e che già cinque anni fa aveva provato la scalata al municipio, per poi rinunciare prima delle elezioni. Infine, correrà anche Anna Rita Carugno, con la sua lista animalista, Movimento Ora Rispetto per Tutti Gli Animali. A Lanciano, dopo mesi di fibrillazioni e spaccature, il centrodestra ha trovato la quadra sull'avvocato ed ex sindaco Filippo Paolini. Dall'altra parte c'è il centrosinistra, con Mario Pupillo ai saluti dopo aver chiuso i due mandati, a correre sarà un suo fedelissimo Leo Marongiu, quarantenne, presidente del Consiglio uscente. Il Movimento 5 Stelle andrà invece per la sua strada con Sergio Furia, che ha vinto una consultazione interna tra gli attivisti che vedeva in lizza anche Licio Bonaffini e Alfonso Valerio. Corre Ivaldo Rulli, funzionario ASL, veterinario e artista, 64 anni, che si presenta con la lista Rilanciamo Lanciano. A Francavilla sono ben otto i candidati a sindaco. Il centrosinistra, per difendere la sua rocca forte, punta sull'avvocato Luisa Russo, assessore e delfino del sindaco Antonio Luciani, che non potrà ricandidarsi essendo al secondo mandato. Il suo nome ha avuto la meglio su quello di Cristina Rapino, candidata indicata dal Partito Democratico. Il centrodestra risponde con l'imprenditore e già sindaco della cittadriatica Roberto Angelucci. In corsa anche Franco Moroni, ex consigliere provinciale e assessore comunale di Forza Italia. Per il Movimento 5 Stelle, che ha scelto di non appoggiare il Partito Democratico, corre il consigliere comunale Livio Sarchese, leader cittadino del Movimento e candidato sindaco, anche nel 2016. Ci sono poi Camillo Paolini con la lista aria nuova, Moreno Bernini per uniti a sinistra, Carmine Montebello con la lista etica Montebello e Gianluca Baldassare con la lista civica, Gianluca Baldassare sindaco. In provincia di Teramo, gli occhi sono tutti rivolti al roseto degli Abruzzi. Per il centrosinistra correrà per un secondo mandato il sindaco uscente Sabatino di Girolamo, appoggiato da tre liste, tra cui quella del Partito Democratico. Sul fronte centrodestra, il candidato sindaco è William Di Marco, appoggiato da quattro liste, tra cui spiccano Lega, Fratelli d'Italia, Forze Italia e Civiche. Scende in campo anche Tommaso Ginoble, ex assessore regionale del Partito Popolare della Giunta di Ottaviano del Turco, ex deputato del Partito Democratico, ora sotto le insegne di Italia Viva, ma che per questa tornata elettorale ha deciso di rinunciare proprio al simbolo del partito di Matteo Renzi. In campo poi Mario Nunez, della civica Spazio Civico, appoggiato da un altro big di roseto, l'ex parlamentare Giulio Sottanelli, ex deputato di scelta civica, ora coordinatore regionale di azione, il partito dell'ex ministro dello sviluppo economico e europarlamentare Carlo Calenda, mentre il Movimento 5 Stelle appoggia Rosaria Ciancaione della lista Libera Coalizione Progressista. Tra i comuni che non andranno al ballottaggio spiccano infine quelli di Penne, in provincia di Pescara, e San Giovanni Tiatino, in provincia di Chieti.